Grazie a tutti. Grazie a tutti. E il dottor Bovinelli. Buon pomeriggio, buon giovedì. E il dottor Zanetti Daniele di nuovo con noi. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Hai tolto perché se no sai che arriva beppe K. No, che ogni tanto lo tolgo, ogni tanto mi dimentico. Ok. Però si capisce quando parlo. Ah, lecca lecca. E il bastoncino. Ne ho altri di 72. Pieno di zuccheri. Allora, allora, allora. Ma prendo la metformina. Quindi per cui sono sereno. Pieno di zuccheri. Va bene. Allora, grande giornata di vigilia. Vigilia proprio. Eh, 24. Sì. Buon Natale. Ho sentito che c'è chi si lamenta perché c'è il doppio turno. È così da te. C'è il doppio turno. Un po' di partite oggi. Volevano le partite tutte in simultanea. Ho letto questa polemica un pochettino che arriva un po' dalla Lombardia di dire non è giusto che si giochi prima delle partite. È sempre stato così il calendario. Adesso perché quest'anno capiti in questa situazione non è colpa di nessuno. Cioè, voglio dire. Cosa cambia? Niente. Niente. Allora, ma lo faremo. No, sai, la concomitanza. Perché? La concomitanza lo sai come il vento? No, anche nel calcio la fanno la concomitanza. Sì, ma se ha un senso. Non ha un senso. Beh, in questo caso diciamo che con questo arrivo con quattro squadre che possono ancora giocarsela per il decimo posto dei play-in potrebbe avere anche un senso questo discorso. Però nella realtà se tu sei un fondatore, tanti anni che sei dentro e sai perfettamente come funziona questo calendario, non è che te ne puoi accorgere il giorno che è stata un po' in una situazione di questo tipo. Molto onestamente. Molto onestamente. Piacere, possiamo sapere, le dieci squadre. Il Partizan deve solo aspettare cosa fa l'Efes. Domani può giocare di nulla a fine della fiera. Se le posso dire, io credo che la Stella Rosa non farà mai un piacere al Vars, ma mai. Sì, condotte. Ma neanche in punto di morte. Ha già parlato anche il Presidente. Poi magari può succedere di tutto, però non credo che la Stella Rosa faccia questo piacere. Al di là del fatto che ne abbia le forze poi di poter andare a vincere contro l'Efes di Istanbul. Di adesso no. Ma è il prossimo anno, non so, a marzo, febbraio. Sì, però se devono mettersi lì, se devono fare un piacere, stiamo fuori tutte e due noi serbe, stanno fuori tutte e due noi serbe. Perché in Serbia la pensano così. Si amano tra di loro. Diciamo che le fazioni sono abbastanza separate. È difficile che arrivino a fare un biscottone. Anche perché se la Virtus fosse la Stella Rosa e la Fortitudo fosse il Partizan, adesso stasera la Virtus cercherebbe di dare una mano. Allora, quindi dai, ma la stessa cosa va per mano. Anche se in passato è successo, cioè quando, visto che oggi ricordiamo Sugar Ray Richardson, portato a Bologna dal signor Porelli, grande visionario del basket e per chi ha la mia età, lei Fioravanti non l'ha visto, ma per chi ha la mia età, 50 anni e ha cominciato ad andare al palazzo a vedere Sugar Ray Richardson, come anche il dottor Donne. Dopo dirò qualcosa su Porelli. Ecco, però è un bel visionario del basket, cioè nel senso che aveva portato qua e oggi lo ricordo, non so se ne avevo sentito prima parlato, però è chiaramente però in quell'epoca Porelli aiutava anche i cugini della Fortitudo con dei prestiti e con delle situazioni, si sa perfettamente. Ma perché Porelli veniva dal nulla, nel senso che Porelli comprò la Virtus con le cambiali, così facciamo prima, però era un avvocato che nel mantenimento dei patti e delle situazioni non aveva problemi, quindi sapeva perfettamente. Era un visionario perché ha creato un mondo, cioè ragazzi, di base Porelli fece la Virtus più esclusiva, cioè era la squadra più esclusiva d'Italia, sì, una delle più esclusive d'Europa, cioè per andare a vedere la Virtus, c'era gente che stava sotto l'acqua giorni per prendere l'abbonamento, cioè Porelli creò veramente questa cosa elittaria, perché era elittaria. Stai parlando degli anni 70, cioè una formula di marketing che era… 70, 80. 80, sì, però già il palazzo pieno così, fine anni 70, stai parlando di una situazione, non di marketing che tu stai guardando avanti, tu sei 50 anni avanti. Adesso che cosa si fa? Si cerca il sold out, si cerca di riempire, di fare… Lui la riempiva sempre. Lui lo riempiva e la situazione… I prezzi non erano sicuramente comodi, i prezzi erano alti. Perché lui aveva creato questa cosa qua, da lì poi venne fuori lo strisciolone, noi patristi, voi plebei, perché veniva da quel retaggio lì, nel senso che chi andava a vedere la Virtus, intanto gli abbonamenti erano quelli e tu rinnovavi a metà dell'anno l'abbonamento. Se era partire tu lo rinnovavi a metà dell'anno e dicevi, tieni, questo non so. E dopo succedeva la cosa, tra virgolette, non bella, nel senso che una volta c'erano gli annunci sul giornale e quando comprava il giornale c'era tutta una pagina di annunci, c'era. Ok. Suonare Serroni e tutte le ragazze che lei faceva il numero, telefonava e poteva andare a trovare. Questa è per la sezione Vanni, poi? No, no, in mezzo a tutti questi annunci c'erano gli annunci di lavoro e poi c'era abbonato Virtusino, quest'anno ho rinnovato l'abbonamento, lo cedo per l'utilizzo temporaneo e poi c'era la cifra. E di solito era, tu lo rinnovavi, faccio un esempio, a 500 mila lire, un milione, faccio un esempio, la tribuna, la cosa, e c'era gente che lo poteva acquistare al doppio del prezzo anche per andare in Piazza Sarita. Ragazzi, era il second ticketing degli anni Ottanta a Bologna. Era il reseller, era il reseller, era già reseller. Ok, io ho cominciato ad avere l'abbonamento perché allora la parte alta della tribuna Calori, perché non c'era tutta la Calori, Fortitudo aveva tutto, sopra e sotto nella shul, mentre Porelli teneva numerata la parte sotto e la parte sopra te la dava così. Curva ragazzi. Curva ragazzi, io avevo i primi abbonamenti, li ho fatti lì come under 14, perché non davano i biglietti con le scuole, con queste cose. Poi quando tu riuscivi già ad averlo, dopo con la prelazione, il primo anno che sei entrato da bambino, dopo con la prelazione andava. Curva ragazzi, l'avevo anche io il curva ragazzi. Non è la stessa cosa ovviamente, però mi ricordo che il primo abbonamento, io ero molto piccolino, avevo 99-2000, quindi 9-10 anni, c'era la tribuna Kinder Junior, che era dietro alla panchina Virtus ed era un prezzo veramente molto accessivo ed eravamo pieni di ragazzi, io ero uno tra i più piccoli, poi c'erano quelli anche un po' più grandi. Lei la truccavano ancora, c'era ancora il trucca bimbi. Ma smettila, io mi ricordo invece i bovinelli, io posso dire che mi ricordo, nonostante la mia giovanità, bovinelli con i capelli, quindi, con i bei capelli a spazzo, neri, d'altronde. Con la tua bella pollo gialla. Vada, è vero, no, gialla poi l'anno dopo. È il primo anno che eravate ancora, mi sa, prima di Gruppo Vinci ai ragazzi di Oliviero? Bravo. No, è sempre stato Gruppo Vinci ai ragazzi di Oliviero. Ah, ok, allora, forse perché si leggeva grande ai ragazzi di Oliviero, poi dopo è passato Gruppo Vinci. Perché stavamo tutti lì. Mi ricordo di te, mi ricordo del nonno che avete fatto lo spazzo. È stato il compleanno. Ma io mi ricordo di tutti voi. È stato il compleanno di Sandrone. Infatti perché io poi non ero uno molto da curva, facevo un po', un po' venivo su da voi, un po' andavo nell'altra curva, facevo un po' e un po' ogni tanto così. Sì, già, come adesso faceva un po'. Ci sono sempre stato una bandia a ruolo, sono d'accordo, certo? Era già. Da democristiano, perché farsi dei nemici quando poi farsi tanti amici? Le cose che fa adesso, cioè, voglio dire. Perché farsi? Andava da una parte, con l'altra, facciava le mani, si inchinava, solite cose. Ieri è finito il Ramadan, quindi era finito. Lei è uno dei principali inchinatori che abbiamo sulla faccia di tutto. Ma io non mi inchino, io semplicemente non vi farò mai capire il mio pensiero. Di in ginocchio. Ragazzi, ci sono persone che hanno fatto carriera facendo così. Eh, ho capito, se le piace quella carriera lì. No, non in quel senso. No, anche in altro senso. Anche nella politica. Io non intendevo quel senso lì. Fomani che non siete altro. Iniziamo con dei messaggi? Vada. Allora, andiamo. Un grande presidente. Porelli, notti insonni per prendere l'abbonamento Under 14. Era bellissimo. Era bellissimo, sai che è in Piazza Zarita? Sì. Praticamente se arrivava il giorno prima, poi si davano i bigliettini come quelli che si danno al guardaroba. Sì. E poi c'erano gli appelli ogni due ore. E poi si passavano le notti. Ma durante quelle notti, tanto che c'erano gli appelli, che si dormiva lì, perché la gente poi andava in bombo creppo, andava in giro, dovevi stare lì. Perché l'appello, se non c'era l'appello, saltava dentro quello che c'era dietro. E chi mandava la madre, chi mandava un'altra persona per stare in fila, perché quelli lì erano 300 posti, tipo venduti quelli, gli altri. Si andava su quella cifra che le dicevo. E lì durante le notti succedeva di tutto. Soprattutto tra i giovani, tra le cose. Serate fantastiche. Tipo limoni. Limoni, spremute, tutto. Centrifugati. Ah, se si passava da ovini ad agrumi in un'ameni. In un attimo. In un attimo. Si contavano le pecorelle. Vedi che siamo arrivati. Vado avanti. Mi sono astenuto da questa cosa. Io facevo le notti per l'abbonamento, ragazzi, invece al Palazzarit, quindi a uno di quelli che faceva parte dei limoni. Era uno che non era in una stalla. A Palazzarit, il giorno dopo, PS, dovevi sperare che morisse qualcuno per trovare un abbonamento numerato. E poi anche Barbara Martelli, facevo la notte in piazza Azzarit, lo sto leggendo con le mani alzate, per prendere un abbonamento in curva, ragazzi. Gradinata ragazzi, anche quello andava in prelazione poi tre ore prima per entrare ai cancelli, tanto tempo fa. Come considerate l'impiego, qui invece, Bini Amino De Caroli, di Hachet e Paiola, insieme, se può essere rivederli anche con il Basconia. Allora, è stato utilizzato con Venezia perché il piano partita prevedeva che Venezia avesse un problema nel pre-maker, cioè nel senso c'è cercato di portare la pressione sui due giocatori. Hanno uno dei focus, dei problemi che si potevano dare a Venezia, era quello di inserire un doppio palleggiatore in campo sempre, perché portasse pressione anche alta, e la cosa è andata bene, sia su Spissu che sull'altro, quello è Eder, com'è che si chiama quello con i baffetti? L'ha provito? No, 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 over, over, quello lì, quello lì, l'americano bianco, quello che ha fatto la cretinata con la Napoli. Etiker. Etiker, Etiker. Che parte poi dalla panchina però. Sì, però, nella realtà, il tuo più play... Io vorrei avere quei problemi lì, di quei due giocatori che hai nominato. Di Spissu e... Sì, io li vorrei tutti e due, lo facciamo prima, ma è lo stesso. Vabbè, uno fa canestro, e l'altro fa palleggiare. Vabbè, però hai visto che con i nostri, questo tipo di piano è andato male. Gli ha mancato tutto il resto a loro, eh? Sì, sì. Gli ha mancato il più forte. Beh, però andare in pressione così alta in quel momento lì, secondo me, è aiutato. La partita più brutta di Taker da quando è in Italia, cioè... Beh, è marcato anche, direi discretamente bene, marcato battuto bene. Cioè, delle volte succede nella vita che se fai una prestazione scarsa sia anche colpa tua. Sì, no, no. Potrebbe essere anche colpa tua. No, no, chiaro. Chiedo, chiedo. Chiedo, però sicuramente qualche... Cioè, non è che non ha proprio visto il canestro, però secondo me, in tante situazioni, è stato marcato molto bene. Cioè, è funzionata. La Virtus ha eseguito quello che aveva preparato ed è riuscita a farla, grazie anche a una Venezia che, secondo me, non ha giocato la miglior pallacanestro. Però bisogna vedere sempre... Gli altri non hanno giocato, eh? Sì, però, Zanna, bisogna sempre vedere dove partono i limiti e dove ha giocato male qualcuno e dove hai giocato bene tu. Secondo me, andando avanti, vedremo se questo è stato un fulmine a Celsereno, come è potuto essere quello con Brescia, o se questo ritrovo di, tra virgolette, squadra, come avevamo detto lunedì, sarà continuo in questa situazione. Già domani c'è un test molto importante. Allora, poi ci chiedono Cordinier. C'è, si è allenato tutta la settimana. Sta bene. Poi, mentre si attendeva, si suonava Serroni. Beh, Serroni era un po' lontana da lì. Cioè, lontana, ci si arrivava a piedi, dovevi fare da un appello a quell'altro. Era nel pieno del suo... Era una bella Serroni in quel momento lì. Era nel pieno, eh? Era nel pieno e poi... Era già una signora, però, eh? Sì, però, anni Ottanta, dici, già una signora? Era, rispetto a noi che andavamo a fare... Lì, Fioravanti, c'erano delle cose che non voglio dire, perché dopo magari ci ascoltano anche da Reggio Emilia. Però una volta, una volta, negli anni Ottanta, lei bastava che uscisse lì un attimo sul viale. E lì, la sera... Cioè, una volta si andava in discoteca, una volta la sera, il venerdì, qualsiasi sera, tu eri fuori con gli amici, con le cose, cosa facciamo? Sono le undici, ci va a fare il famoso putantur. Eh, certo. Per Bologna, perché lì c'era una signorina su tutti. Tutti coprivano, era come un radicino, coprivano tutti. No, però, sai parlarne adesso? Che siamo nel 2024 e vedi quello che c'è girando in macchina, che ogni tanto c'è quello con i birilli e le cose. Io tornerei a quel tempo. No! È vero, lei ogni tanto al semaforo c'è quello con i birilli. Diciamo che tra i basche e le austriache. Poi al meglio le austriache. È vero. Che preparate di lavoratrice indefense perché eravamo... Cioè, tornavamo dal Matis, che erano lì, quindi... No, però le dico che era... Con già dei turni alle spalle. No, però era un divertimento. Dei turni, non avete capito? Stavano alle otto, quelle... Va bene! Era veramente della teutonica. Ah, ti mandavano via. Se non eri del loro... Ti mandavano. Vada pure. Ci vorrebbe il bollino e in alcuni momenti quello lì che... No, vabbè, però... Cioè, capisci che adesso quando leggo Citro... Cioè, era un'altra città, era un altro tipo di cosa. Come stavo dicendo, era un visionario Porelli. Certo. Era un altro tipo di Bologna, quella Bologna lì. Diciamo che erano più o meno tutti i visionari. Veniva chiamata la San Francisco d'Italia. Cioè, la gente partiva da Londra per venire al Chichi. Non è che... Parliamo di niente. Comunque... Cioè, erano... C'erano degli altri tipi di divertimenti. Non che non ci fosse... Cioè, vada pure. Allora, un audio di Sandro Cex-Andreani. Socia che è antichi a Belgrado. Lì non la fanno la polisportivona come vuol far Zanna a Bologna. Ai! Sapevo che non è in giro in moto oggi, che è giovedì, che non fa una fava al giovedì pomeriggio. Fa un bel girettone in moto, che è anche caldo. Marco. E vabbè, ma anche a quei tempi, se giravi in certi posti, le trovavi, quelle con i birilli. E dove c'è il palazzo adesso, tipo? Un po' più avanti, un po' lì di vetro. Beh, io già a fine 85-86 ero già a Radiosfera, che c'era già in buonora. Prima di me ce n'erano due che trasmettevano che erano i birilli. Famose anche. E anche belle, se non sapete. Io non la vedo tutte le mattine. Abita vicino al negozio. 1977, comprate i quattro abbonamenti prima di sposarmi e fare figli. Sandro Labanti. Un grande. Poi ho fatto due figli che costavano di più degli abbonamenti. No, non è vero, perché poi Sandro l'aveva anche poco tempo fa con il suo figlio. Piccola nota stonata. Domani niente, sold out? Siamo a 450 biglietti ancora da vendere, leggevole in pomeriggio. Tutto il palazzo? Sì, è un peccato. Curva vuoi essere sold out, adesso non ti so dire. Vuoi essere sold out da 4-5 giorni. Non ti so dire se vuoi. Ma è strano, vedete che è strana questa cosa. Perché non c'è un sold out con questa squadra che fra Palenzi ha due giocatori che io investirei tantissimo su questi due giocatori. Ma perché la gente non viene a vedere questa partita? Perché non si chiama Real Madrid. Questa è una roba pazzesca. Che non si faccia sold out con questa squadra. È incredibile. Nella chat Telegram di Virtusegafredo, quella gigante che c'è su Telegram, e saluti i ragazzi perché poi molti ci ascoltano. E alcuni mi hanno fatto notare. Ma in realtà si parlerebbe poi dell'ottavo, non hanno sold out di quest'anno. Quindi non bisogna lamentarsi. In realtà ragazzi domani tutti i giochi l'ottavo posto. Non so se avete ben capito. Va bene? Non vedrai il Real Madrid. Ma a parte che vedi una squadra che è buona buona. Anche se abbiamo vinto là. Ed è una partita che è come... Ragazzi ma stai scherzando? Io ho visto quella con Real Madrid. Che parlavano di biscotto. Ma è uno scherzo. È uno scherzo. Secondo me non si sono fatti male. Ma non ti devi far male. Però è giocato. Perché comunque non è che gli hanno detto penetra pure. Però domani è una signora partita. Cioè vuol dire una signora partita con quel signore allenatore che conosciamo che c'è stato due o tre volte quest'anno. Perché oramai tra allenare loro e allenare lo Stella Rossa... Beh già la seconda volta che lo riteniamo. Nonostante abbia 200 anni comunque sia un po' evoluto. Ogni tanto si ferma. Si ferma anche lui come gli altri anziani. Però c'è un po' ancora fino a domani per la vendita dei biglietti. Venite a vedere il 4 del futuro. Monique. Beh adesso 100 anni ne ha 66. Eh beh è gioco. The first four. Ho capito. Beh diciamo che... Tra allenare e gli altri che ne hanno più o meno quella cifra lì sono un po' al cinema. E lui ha giocato nella Jucoplastica. Eh lo so. Uno. E soprattutto ha vinto la battaglia più forte che non è quella di giocare ma ha vinto la battaglia più forte. Con un brutto male. Sappiamo molti dicono perché c'è il codino. Perché lui ha fatto questa scommessa con se stesso che non si sarebbe mai più tagliato i capelli se avrebbe vinto il tumore. E questo è stato. Ma non ha abbracciato anche un'altra fede. Non lo sapevo. Questo non glielo so dire. Non è buddista. Però non vorrei dire una fregnaccia. Vai. Nonostante la provenienza che non aiuta. Poi ne sai a pacchi bovi scrive Stefano Bucci. Se dovessimo chiudere Ottavi a proposito. Cioè domani la Virtus comunque vada anche se poi al play in magari non passa e non arriva ai play off. Comunque in regular season. Chiude a pacchi? Ma chi era riferito? A bovi c'è scritto. No ma era riferito al discorso di prima credo. Delle serate. Delle ragazze. Credo di quelle con i birilli soprattutto. Sì sì. Birerate le birilli. No dicevo che comunque va bene. Ok magari non fai un buon play in. Però comunque se domani vinci puoi dire che devi aver concluso la stagione. Ottavo. Ottavo su di sotto. No punto. Tu arrivi 8, 9, 10 sei in quello che avevi prefisso e che se torniamo qua a risentire le prime trasmissioni o a leggerci i giornali dell'estate scorsa poi dopo la gente si è fatta venire. Sai cosa facciamo? Ti dico cosa facciamo. Se dovessimo non andare bene domani sera lunedì noi non andiamo in diretta e mandiamo la replica di quel giovedì prima della Supercoppa. Ah ok. Perfetto. Ah è vero. Ok? Il giovedì prima della Supercoppa che c'era il disastro o lunedì. Quando era appena saldato Scariola appena arrivato a banchi. Va bene. Bellissimo. Mandiamo il podcast. Allora se perdiamo mandiamo quella replica in onda. Speriamo di non mandare. No vabbè sto scherzando. No però sarebbe bello eh. Cioè. A me piacerebbe molto molto visto che potete farlo di andare che andate su Telegram sul canale di Virtucini siamo noi. Sono caricate tutte le puntate. Sì sì adesso ovviamente non ce ne abbiamo più perché abbiamo su Spotify da gennaio però fino a gennaio. No 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 ma io le continuo comunque a mandare e continuo comunque a mandare perché io poi dopo quando le persone ci chiedono qualcosa è bello che io. uno parli per quello che ha sentito veramente dire in questa trasmissione non perché per delle cose che buttate lì per caso. Va bene. No anche perché ogni tanto aprendo dei microfoni delle cose si diceva delle robe. eh siamo anche punibili cioè quello che diciamo e siccome ne diciamo di cazzate ne diciamo tante volte però quantomeno ce le ricordiamo le cazzate che raccontiamo e allora teniamo i podcast per questo quindi chi ci ascolta da casa può. o podcast anche perché non capisce quello che stiamo dicendo. Guarda qui mi sta. No no te lo dico. Aspetta eh te lo voglio dire. Noi vi mandiamo la puntata del 25 settembre. 25 settembre bellissimo. Bellissimo. Quando c'erano tutti quelli che ah Scariorno. No il 18 se le vedo di Scariorno. No ma lì c'erano tutti. Perché quella del 25 era già dopo la presentazione e si erano già un po' tutti calmati. Ah quando aveva parlato. No e quella era quella quando aveva parlato. Il 18. Quando aveva parlato Zanetti che aveva detto. No no no. No io avevo voluto da Raffaele invece. Quella in diretta da Raffaele era la presentazione che siamo andati là a fare. Ah è vero. No no. Vada pure. Allora già i biglietti dove si trovano? Su Viva Ticket. Sì. Poi perché vent'anni di buio ha fatto disinnamorare il popolo? Speriamo che i giovani tornino poi adesso il costo del biglietto è lievitato in proporzione rispetto al livello di vita dell'epoca. Sì però Sandro una cosa. In questo momento noi quando parliamo di sold out si parla di 9.970 posti. Quell'epoca che parlavamo noi di vent'anni fa. Erano 5.000. Era 4.500. 4.500. In questo momento c'è già stato. Sì no. Sì sì. No c'è stato un periodo che. Questo è un bel bitonale. Suonato forte. Quelli che sanno dove noi trasmettiamo passate da sotto e suonate il clacson. Vediamo in quanti lo fanno. No però al di là di questo secondo me un ricambio generazionale importante ma veramente importante c'è stato. Al punto che parlando proprio scrivendo molti scrivevano però se dobbiamo fare sold out perché vengono 1.000-2.000 occasionali che alcuni taluni mi scrivevano proprio in chat telegram non sanno neanche il nome dei giocatori allora è meglio non farlo. Cioè le persone vanno avvicinate. Poi le persone decideranno se continuare e come siamo stati cioè anche. Posso essere d'accordo con Sandro sul discorso che il biglietto sia impegnativo? Sì però è sempre parametrato quello che paghi l'abbonamento. Cioè nel senso deve essere sempre superiore a qua. Allora vado indietro così la dico bene. Vai 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 vai. Possiamo dire che comunque l'abbonamento è alto? Sì. Sì. L'abbonamento è alto però se Virtus è... No per l'andamento della vita. Sandro ha fatto un discorso sensato molto sensato come fa di solito. A parte quando si perde. Si perde. Sto scherzando. E di base è abbastanza... Cioè nel senso una persona che non vuole venire a stare in piedi in curva. Sì. E vuole vedere una delle partite seduto tranquillamente da un posto tribuna. O dall'alloggio di fronte a te. Sì. Spende una cifra importante. È vero. Una cifra che non spendi nel resto d'Europa. Certo. Bene. Con budget ben più ampi. Quindi il discorso che ha fatto... Anche inferiori. Sì. Inferiori al biglietto non faccio test. Se vado a vedere il Real Madrid costa un terzo... Sì. Anzi un quarto di quello che costa la Virtus. Quindi che è un budget un po' più alto. Certo. Il problema fondamentale credo che sia questo. Cioè quello che voleva far capire Sandro... Allora con le spagnole non mi parametro nel senso del budget perché sai che sono polisportive. Quindi alla fine... Ti vuoi che ti dica? È per quello che io dicevo di fare polisportivo nella trasmissione prima. Secondo me c'è Sandro Jack Sandriani. Ascolta il livello è quello lì. Ah ok. Non riesce a capire il perché di quello che stavo cercando di spiegare io. Non riesco a dissociarmi. La Virtus Calcio, la Virtus Tennis, queste cose qua. Non l'altra squadra che gioca a basket. Lì sono con Sandro Jack e San Sandriani. Sandro Lamatti dice nel 77 ho fatto quattro abbonamenti distinti. Oggi non lo farei a parità di età. Bravo. No ma poi è così che si fa a fare i soldi. Sandro fai bene a tenerli. Tu che li hai. Ma detto questo, di base, cioè dovete uscire da questa cosa dell'ultras. Perché ormai avete un'età sia te che jack. Te non hai dei figli e lui hai dei figli. Però... Io ho dei cani. Tu hai dei cani che sono come i figli. Anche io ce l'ho il cane. Però il discorso è un altro. Per vedere, cioè per vedere una società o polisportiva grande, grande, grande che possa competere con le altre polisportive, va bene così? Sarebbe giusto farlo. Poi è chiaro che Basket City abbiamo queste... Fortitudo, Virtus, tutto quello che vuoi. Ozzano, ci metto dentro che Ozzano, perché Ozzano è la squadra più antica di Bologna. Ma io ti posso dire una cosa. Se dovessi essere adesso, in questo momento, con l'imprenditoria che c'è nella parte Virtus, guardare dall'altra parte e dire dobbiamo prendere l'imprenditoria... C'è uno di là che sporta. Sì, no, però... Fermi tutti. Ma a prescindere da questo, adesso, al di là di questo discorso alla polisportiva, per tornare al discorso che facevi tu, Io, Miriam, perché quest'oggi, se noi andiamo a chiedere, o negli ambienti di Basket Virtus, è quella che, non dico accreditata, però al 95-99% avrà la World Car per l'anno prossimo, mentre se tu vai dalle zone di Berlino, ti dicono, abbiamo presentato forse un foglio dove ci dice, Giordi Bertomeo, che possiamo stare dentro, che magari Giordi Bertomeo tira fuori questo foglio perché è stato silurato dalla Spagna, e magari non succede questa cosa a Valencia, che Valencia ha un palazzetto nuovo. Perché? Perché Valencia ha proprio il prezzo singolo del biglietto, che è circa il 30% di quello che fa pagare Virtus. Quindi, nell'ottica dei famosi range di Eurolega, c'è lo riempimento e il costo singolo del posto del biglietto. Se non sei un fondatore, nelle varie cose che guarda Eurolega per mettere dentro delle società, in quello che ti viene portato, è il costo del biglietto? È il costo singolo che paga oltre al riempimento. Nel senso che, a parte, portano 18.000 persone, pagano di meno, però alla fine il procapite che ti viene è abbastanza alto, perché sono 18.000, anche se pagano 15 euro, invece che 30, hai capito? Sono il doppio, quindi alla fine è quello che ti portano. Da noi, Virtus è la prima, dopo il Maccabi, l'abbiamo detto molte volte. Dopo il Maccabi, non quest'anno chiaramente, il pagamento del posto singolo, il seggiolino dove ti vai a sedere, è molto alto e con il sold out la porta in altezza in questo tipo di ranking. Poi ci sono le multe, ci sono il rispetto di tutte le regole che vogliono all'interno di Eurolega, però nel vario ranking che c'è, una di queste cose che guarda i soci fondatori di Eurolega per dare anche le wildcard è questo, oltre che i risultati. Guarda, ne approfitto. Io ho detto semplicemente che Sandro aveva fatto una buona disabilità. No, 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 secondo me è alto. Secondo me continua ad essere molto alto. Però è uno di questi valori di Eurolega, ce l'abbiamo detto da un po'. Però tu faresti, adesso io non sono bravo e non sono un imprenditore acclarato, però secondo me se tu abbassi il prezzo, rischi di fare sold out sempre. Sì. Perché non è più la Virtus di Forelli, come ti ha detto Sandro, e soprattutto secondo me si venderanno più abbonamenti. Però, vedi, la stessa cosa, il prezzo è inferiore quando tu giochi il campionato, e sul campionato tu, massimo che non giochi con Milano, sul valore, anche a passando, e nel massimo delle promozioni, quando fai quei pacchetti, che c'è un pack anche adesso. Sono soldi, ragazzi. Eh, lo so, però non è cosiddetto, se abbasso tutto faccio sold out. Non è scritto. Non è l'unico valore per il fatto che tu vai a sold out. Non è l'unico valore. Ci vuole chi stai giocando contro. Ma no, stiamo dicendo una strazzata, perché se tu, perdonatemi, però magari da questo lato qua, una visione un po' diversa, da voi, di base, se il prodotto costa meno, e fai sull'annualità, sull'annualità costa meno, l'abbonamento lo compri. se tu devi spendere in curva, non in curva, di fronte a te, 1200 euro o 1800 euro, adesso mi ricordo. Di fronte a noi? No, no, no. Il ritorno costato 615 euro. Se voi ti mando la foto, solo il ritorno. Così facciamo prima. Ma dove? Di fronte a te. Di fronte a te, proprio. Di fronte a te, proprio. Ah, ok. Adesso un soldi, a pari che non vedi una minchia, secondo me. Secondo me siamo, di fronte a noi, sono 200 euro in più di quello che paga la foto. Cioè, tu sei ingradinata etta, dall'altra parte 6,50. 4,50 le tue, dove c'è gestite da boys, da vecchio stile, e 6,50 dall'altra parte. Poi se tu mi parli dell'oggio sotto, non ti so dire se il costo di più l'oggio sotto, non lo so. Ce lo dico io. Allora, ce l'ho. Vai, faccio in fretta, ce l'ho qua. L'intero abbonamento per la stagione 2024, adesso mi è andato tutto sgranato, e l'intero abbonamento era Nannetti 110 più 5,90. Sì, che era 6,50, quello che era. Era? No, sono 700. Sì, è gradinata est, 5,90, 700 euro. Perché mette? Quello di fronte. La gradinata, quella sopra. La sopra. Lodge, invece, era... te lo dico io. Ma scusa, non ce l'ha Alessandro. Ale, come che ci porta a quella persona di una sensibilità che è un po' che non vediamo. Cando, Cando. Sensibilità per i pasticcini? Certo. In generale, no, mi sono molto rile. 1,150. Ok. Però, vabbè, aspetta, l'unica cosa che varia è che al paladozzo andresti nei distinti, che è la parte sopra della parte del lato lungo. 1,150. ragazzi. Sono 1,000, se vai in lotto. C'è della gente che prende dei 1,200. Sono totale quante erano 38 partite? No, quante partite sono? 34. Ma non è 30 che discoste tra i 14, è il discorso dei 1,200. Ragazzi, non è il discorso di quante partite sono. È 1,200 per un posto che è sotto a quello che spende 600, che è la stessa identità. Anzi, forse vedi meglio sopra. Cioè, è alto. Cioè, vogliamo dire quello che vogliamo. Cioè, possiamo dire quello che vogliamo. Alla luce dei fatti, dell'odierno, di quello che è adesso la vita, è alto. Quindi, se tu fai dei sold out a queste cifre qua, bravo te. Però, secondo me, quello che dice, quello che dice, se tu li abbassi, visto che non siamo più ai tempi di Porelli, che c'erano le pellicce di visone, dei ballant che volavano da tutte le parti, non siamo più a quel tempo lì, ci sono delle canote di Zara e dei giubbotti di Murphy e Nye, quando l'ha fatta bene, dei ballant che volavano. Da me volano ancora. Nel mio armadio ci sono. Però, detto questo, di base, di base, una volta c'erano dei maglioni da un milione e due, milione e quattro, milione e sei. Adesso si fa un bel zarato nero che tanto non riconosce nessuno e buonanotte su un attore. Perché sono andati tutti da dove si veste il fiorale. Il problema fondamentale è quello lì. A livello di... Io sto paragonando l'epoca ad adesso. Dove va a vestire il fioravanti lo dice uno che ha preso alla bancarella di Carpathos la maglia della Maui a 10 euro. Va bene, ci sta. Lo so, lo so. Se dite un'altra volta bancarella la devo dire. Il problema è quella perché mi ha detto guarda questo negozio vai a comprare. Ha detto lui. Io invece se ti faccio vedere la mia maglia che ho sotto, la maglia bellissima di Pacman, comprato da Limited Edition. Giusto, Daniele? Giusto. E sto aspettando quelle di Spice Girls. Comunque, comunque ho fatto il prezzo a biglietto, lodge, per 32 partite, 37,5 a partita sopra 21. Io a 30 euro ero a tre passi dalla panca del Real Madrid. Va bene. A Milano o a Madrid? Quindi, è alto. Io voglio andare a vedere la Virtus. Ti sto dicendo il perché molto probabilmente non c'è sold out per quello. No, non c'è sold out. È che uno dice oh, gioco con Real Madrid, prendo il biglietto. Ok? Perché l'abbonamento non me lo posso permettere. Ma non voglio fare i conti in tasca alla gente. La città? Però, perché? Perché ha un costo alto di partenza. Ok? Però, anche il biglietto costa dei soldini perché poi varia in base alla squadra. Certo. Ecco, perfetto. Forse, farlo pagare un pelo meno ma non dico che da 1.200 deve andare a 400 euro. Sto dicendo semplicemente che 1.200 una famiglia di quattro persone come quella di Sandro e comincia a spostare. Però, va anche detto ribadendo il discorso che può essere giusto su questo lato qua che al tempo stesso sono stati bravi comunque in Virtus. Ah, ma no? Sono bravi lì? Sono stati bravi cioè nel senso che quando è stata aperta la campagna abbonamenti noi eravamo qua in radio e facevamo la trasmissione questo discorso è saltato fuori. Ok? E noi abbiamo sempre detto vediamo i dati quali saranno. I dati di quest'anno sono tutti in crescita. Quindi, o hanno o c'è qualcosa è in crescita anche quello del Bologna cioè ci sta. ci sta però un abbonamento al Bologna un abbonamento che può essere paragonabile all'oggi ce l'ha in tribuna. Sì. Ragazzi attenzione. No, no ma è chiaro. È chiaro però sono stati quella cifra che aspetta vederla in tribuna. Vediamo se Pasmono fa Champions League se i prezzi rimarranno cresceranno cresceranno. Ma devono crescere per forza. Sono d'accordo. anche perché crescono i costi anche perché ci sono più partite ma è difficile. Ci sono più partite e di conseguenza crescono per forza. Però, scusami, però, perdonami, nella tribuna laterale a Palazzo spendi 1.400 euro che è la tribuna gold del Bologna. Oltronissima. 1.600 è 1.100 la tribuna coperta con la laterale. 1.400 1.600 in un anno mi cambiano. Come? Come? Il pene alle anziane. Ecco. Però, quello che dico è che prima mi sviluppo il costo del biglietto. Poi mi dici che c'è differenza di 200 euro. A poltronissima intanto è un po' diversa da quello che è il lodge perché è a poltronissima. Io ti ho detto tribuna laterale però la tribuna laterale costa 1.200 No, tribuna laterale ti ho detto adesso il prezzo. No. Allo stadio o al palazzo? Allo stadio 1.200 1.200 e 1.400 la poltronissima. Io si può 1.600 però va bene va bene è lo stesso uguale. Va 1.600 1.200 lodge 1.200 è il lodge sì. Perfetto. Cioè la differenza è importante no? Diciamo differenza importante? Bene. Quello che ti dà la poltronissima a Bologna che è anche l'hospitality l'hospitality del Bologna io ci sono stato ho avuto la fortuna di essere stato invitato perché non me lo posso permettere perché l'hospitality è solo per sposto quindi sei stato invitato per sposto cioè non credo che degli abbonati hanno anche l'hospitality hanno l'hospitality certo gli abbonati certo quelle che spendono 1.600 hanno anche la possibilità di mangiare giù ok te lo dico io perché sono dalla tua in questo caso abbiamo una marea di messaggi abbiamo tirato via il coperchio dal vaso di Pandora allora speriamo insaputo magari gli viene in mente di fare la polisportiva con la Virtus aspettiamo sta già pensando aspettiamo zona bimbe vicino al dottor Zanetti a prezzo equo poi Tommaso Tartarini sposta sposta le mortadelle non so cosa credo che si riferisca alla fortitude ma non mi riferivo a quelle che sposta le mortadelle che non le sposto più perché ha venduto da tempo se salti due o tre partite l'abbonamento non conviene più Loggest poco meno di mille tutto l'anno ecco vedi allora c'era poco meno di mille sì però stavano guardando mi sa quello per chi si voleva abbonare adesso possiamo discutere finché si vuole dice Tommaso Tartarini ma i costi attuali per vedere palacanestro sono una follia pura oh meno male sì ma Tommy che saluto no una follia pura no ci sono cose che costano bene di più però ci sono delle scelte che vanno fatte cioè nel senso che se uno sceglie in questo caso secondo me ci sono persone che scelgono magari c'è chi sceglie di andare al concerto 80 euro c'è chi sceglie di andare a vedere la Virtus c'è chi sceglie chi è che spende 200 euro per vedere uno che balla su Spotify di Kanye West per quello sì no cioè ci sono delle scelte nel senso sono scelte da fare ma io infatti ti ho detto è brutto dirti ho detto infatti io ho detto se compri la partita singola vai a vedere e fai il sold out a Real Madrid perché non ti puoi permettere un abbonamento se l'abbonamento fosse un po' più non dico popolare non deve essere popolare ma deve essere un po' più equilibrato alle tempistiche di questo periodo cioè all'economia di questo periodo diciamola bene in italiano all'economia di questo periodo secondo me si farebbero più sold out ma è la mia idea vai pure allora poi qualcuno mi sta scrivendo in privato ma per caso siete in una zona particolare di Bologna perché stavo ascoltando e mi sa che ci abito vicino perché è passata un'ambulanza e nello stesso momento è passata questa non era un'ambulanza no 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 questo secondo me è passato un no però un camion qui faceva un semaforo secondo me ha cacciato una grassolata ai pedoni secondo me però è stato carino che ha detto vi stavo ascoltando passò un'ambulanza e poco dopo passò davanti a casa mia e abita qui vicino comunque sì siamo in quelle zone lì c'era Alba Parietti vestita con tuta a pelle di raso verde Sandro Labanti poi grazie sì grazie allo scioglimento dei ghiacciai che ha riportato Bovi in studio Sandro ha ragione per me occorrebbe un altro settore oltre alla nostra curva prezzi bassi boh io ricordo 970 per i già abbonati sì ma ripeto io ho preso il catalogo per chi si deve abbonare magari nuovo ovvio che gli abbonati hanno un prezzo minore molti posti non sono all'attenza di quella cifra per comodità e visibilità poi se si vince si aggiusta tutto per carità la differenza è lì beh è normale che stai parlando comunque di una struttura che è provvisoria quindi su quello non c'è dubbio credo che i prezzi quando tu sei in azzarita dei primi che dai siano abbastanza visibilità e posto siano abbastanza vederli a quello che è nel senso di una partita di Eurolega vista in azzarita in quel catino lì le prime credo che siano abbastanza vederli i prezzi sulle altre è normale che questa è una struttura provvisoria poi vado a fare un recap veloce di tutti i messaggi sui su whatsapp l'unico l'unico chiamiamolo tra virgolette vantaggio ce l'hanno al pireo dove con il fener sceglieranno con chi sfidarsi ai playoff ma penso che nessuno giochi per perdere guarda il discorso che facevamo prima bellissime queste pelle di storia sul tifo virtus anni 70-80 potete dirmi anche quali gruppi organizzati e com'era l'ambiente ultras di quegli anni beh allora c'era 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 boysav basta ok boysav punto la curva era quello poi ogni tanto uno che però c'era gente che aveva una bella fantasia secondo me nel senso si organizzava una striscia mi ricordo ancora ancora ero tifoso ogni tanto uno che buca una partita con noi di solito becchiamo sempre quello che fa la partita della vita partita della vita dipende anche come lo marchi noi le ultime partite che abbiamo giocato in Eurolega noi ci sono stati dei giocatori che temevamo molto nella parte del girone d'andata e poi dopo siamo riusciti ad arginarli uno tra tutti fu proprio la famosa Bafi di la provitola così per ricordarne uno ma anche degli altri anche degli altri però è chiaro che se il sistema di domani di Virtus è quello di squadra vediamo quello che può succedere a livello difensivo se c'è applicazione e tutti portano il loro mattoncino non lo so poi dopo i giocatori devono fare la differenza cioè in Eurolega in questo gioco qua se guardate un po' i giocatori di un certo tipo fanno la differenza non è che fanno la partita della vita nella maggior parte dei casi sono tutte squadre che hanno giocatori di alto livello quindi è strano quando non la fanno la partita della vita ti chiedono in settore ospiti quanti saranno poi scrive il suo pensiero Giorgio Perrez scrive con le maglie della fossa biologica ci sarà sicuramente una qui decina una ventina di baschi più ci sarà qualcuno della fortitudo sono andati là all'andata sono andati là all'andata dicono un colto numero sì bene così quello vuol dire che ci hanno portato dei soldi vuol dire io non pensavo perché appunto con questa cosa sai un trentino sarà il reddito di cittadinanza scusa l'antodo avrà un po' porteranno dei soldi cosa vuoi che ti dico fanno bene comunque bravi venite quando volete anche perché non c'è scambio su un trentino da portare quindi bene portate in Europa non c'è lo scambio quello di 10 euro assolutamente ok non esiste nel senso che non c'è questa cosa ok Giacomo Sandro Jack Sandreani sì vabbè però se non spingi il pulso no no l'ho spinto ma si è staccato il bluetooth era quello forse quel rumore no 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 ah forse potrebbe essere non lo so non lo so quasi mai però è venito da fuori no no era sì c'è stato un rumore sì prima adesso vediamo se si ricollega intanto ricordo un famoso negozio di musica subito sotto lo studio della radio no non era subito sotto era più in fondo era più verso il fondo della quella enorme di musica ci ho preso una multa ma lo ricordo per quello ok vai ecco ecco veniva da fuori bravissimo è questo ha detto lui ha detto lui io lavoro con questi due lo volevo dire lavoro è una parola grossa vai io ero in moto oggi perché domani è il mio compleanno quindi se mi volete portare un bel regalo al palazzo ben accetto e farò un tour della Romagna sabato e domenica in moto e andrò a pranzo domenica sabato a cesinatico e domenica rimini in ristoranti rigorosamente sotto i 50 euro allora lei dottor Zanetti vuole i poveri al palazzo a me da un fastidio vederli invece che crepito sotto i 50 euro no è un discorso di prima un discorso di prima poi altro messaggio buonasera per fare il sold out se proprio lo si volesse c'è la più antica legge di mercato del mondo basta abbassare i prezzi vorrei precisare che io per vedere la Virtus e una partita della Virtus magari da un posto decente mi costa come andare a vedere il concerto dei Pink Floyd comunque sempre forza Virtus fino alla fine grazie Stefano però se tu vuoi prendere secondo me la legge del mercato la legge del mercato o la legge del taglione ti dice che anche con questi prezzi il sold out è possibile quindi se vogliamo prendere la legge del mercato se oggi possiamo arrivarti senza avere neanche un sold out allora potremmo pensare che ma se tu mi prendi la legge del mercato mi dici che il prezzo in alcune situazioni ha portato a sold out Nicolò aiutami Nicolò per favore no però è una regola ma ci sono può essere una regola ma non lo è sempre stata lo torno a ripetere ci sono state partite dove i biglietti erano anche in campionato tra virgolette in promozione a 10 euro anche con partite di squadre voglio dire credo mi pare Venezia mi pare un'altra partita abbastanza importante di campionato e facevi fatica fai fatica e non era un prezzo disorbitante non sto parlando della curva sto parlando di altri settori io ho visto dei 74 con Milano quindi si 70 più 4 erotti di proveniente ma quello stiamo parlando un'altra cosa però non è allora se prendevi l'abbonamento per le due partite ora fioravanti c'è poi sei nel 2024 non è non siamo più non siamo più una mentalità di quelli che devono per forza andare a palazzo anche io sarei curioso di vedere c'è anche la televisione c'è anche il prodotto già li spende in televisione che costa un botto se io fossi uno che potesse decidere qualcosa in alcune situazioni io dico va bene dai vediamo un po' come va adesso abbasso i prezzi poi vediamo arriverà il giorno che non fai il sold out perché magari giochi contro Pistoia o giochi contro Cremona è quello che faceva Porelli non ti dava i biglietti io non possiamo è il fretta ti hai già incassato secondo me non possiamo non hai in vendita i biglietti hai un settore con i biglietti e basta è un prodotto allora Zanna adesso hai un prodotto che che puoi vendere sì ok però hai anche della concorrenza cioè nel senso che quando tu fai un pacchetto ti faccio un esempio Dazan per il campionato che ti dà anche l'Orolega cosa costa? se lo prendi all'inizio dell'anno 29 40 50 metti 50 euro per una famiglia con 4 persone quello che parlava prima Sandro Lavanti a casa davanti alla sua televisioncina con 15 euro a persona tu hai fatto sedere tutta la famiglia si è vista la partita e magari il resto dei soldi li mettono da un'altra parte c'è anche quella concorrenza lì non c'è solo il fatto di dire ah questa poi attenzione dal vivo è tutta un'altra cosa è vero questa situazione però c'è anche quello che non c'era ti faccio un esempio nell'epoca di Porelli perché quando tu se tu non eri dentro a Palazzo la partita te la vedevi due giorni dopo forse su Rete7 con commento di Walter Fuochi forse a penale le vedevi era sì è vero c'era il servizio pubblico che si collegava e ti faceva vedere questa cosa io sono dell'idea che potrebbe il prezzo magari più basso ti potrebbe aiutare ma non ti dà la certezza di fare tutto no 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 è al 90% il fatto che se tu lo metti a quel prezzo lì lo riempi è al 90% però ci sono delle variabili e ci sono delle variabili che creano che non è una regola fissa questa situazione ed è già successo secondo me e poi se dobbiamo paragonarci ai prezzi che fa il Real Madrid come hai fatto prima il prezzo il loro guadagno non proviene anche dal botteghino cioè c'è tutto un circolo con anche il botteghino è ininfluente cioè per loro è ininfluente invece per la Virtus è importante anche per il Bayer Monaco anche per il Bayer Monaco stesso perché c'è solo il simbolo sì sono due robe proprio faccio un esempio il Bayer Monaco quando noi parliamo di budget di situazione cercherò di strutturare meglio la cosa io l'ho capito però faccio un esempio quando si dice il Bayer Monaco basket la sezione basket quando Virtus va in giro in aereo Virtus deve acquistare e compra gli aereo sezione basket del Bayer Monaco utilizza il volo che utilizza il calcio 600 mila euro 600 mila euro a budget di questa cosa anche il palazzo è il loro sì è tutto fatto da Napoli Sportiva allora io ti ho parlato di imprenditori seri quello che può essere saputo a Bologna mettiamo saputo no ma quello io non c'ero nel discorso di prima secondo me secondo me se vuoi creare un prodotto se vuoi vendere un prodotto perché qui si tratta di vendere un prodotto la Virtus in questo momento ha l'hype per vendere un prodotto ok la Virtus ma non va più 100 oggi ti danno 1.2 indietro all'anno se tu fai la sponsorizzazione è quotata adesso così se tu metti 100 euro te ne tornano indietro circa 1.400 circa hanno una valutazione di marketing sponsor di questa situazione con l'Eurolega per il numero di tifosi sia vero non sia vero però ti dico quello che è io parlo di prodotto ma è troppo lungo la legge i messaggi no ma Zana di prodotto come quando dicevo va bene in Lega Serie A tu hai 50 sponsor tu nel momento che vai in Eurolega oggi hai 170 sponsor la differenza è questa qua perché tu quello che puoi vendere come impatto di situazione è questa se io ho solo la LBA gioco solo la LBA vendo a 50 sponsor quello che aveva la Virtus è la stessa identica cosa di quello che sto dicendo bravo era quello se tu hai un bacino d'utenza che può essere pieno a queste cifre qua ma solo con i nomi lo puoi riempire a inizio anno facendo una politica non al ribasso a un adeguamento economico e allora a quel punto lì a parte chi viene da Rimini chi viene da Modena che poi secondo me ha l'abbonamento ma chi viene da fuori che non può partecipare a tutte le gare non lo compra ma le stesse persone che fanno sold out perché fa Modena a vedere Real Madrid faccio per dire lo compra l'abbonamento perché sa che dopo il biglietto non c'è oppure c'è in un determinato una determinata zona o fascia o situazione ok questo io sto dicendo che è molto semplice è molto semplice mi sembra anche molto logico se vogliamo guardare al sold out sono d'accordo con te se vogliamo guardare al guadagno annuale assolutamente quello che stiamo facendo Virtus lo paghi prima no guadagno annuale per Virtus si guadagna molto più a fare una roba del genere lo dico molto onestamente ma fai 5 soldati fai 5 soldati scusa vabbè è troppo lungo è veramente una roba incredibile aspetta non puoi essere così perché se tu hai 10.000 posti e vendi 10.000 posti quei 4 8 soldati invece di 8 li hai fatti tutti sold out allora ti faccio un esempio questo discorso è perfetto le partite dove fai 4.000 persone ne hai fatte comunque 10.000 vi faccio un esempio dopo chiudiamo l'Inter l'Inter da due anni vende 40.000 posti e tutti prenoti di anno in anno tutti gli altri decide lei su partita in base alla partita di fare una politica ti faccio un esempio giochi con l'Empoli vendi biglietti a 10 euro con la famiglia che ci va è quello che sta dicendo giochi giochi sì no no è questo lui stava dicendo questa cosa perché è chiaro che questa fetta è l'incasso globale cioè tu l'abbonato è la fidelizzazione dei 40.000 o dei 6.000 di quelli che ci saranno sempre lo zoccolo duro tu li devi trattare in una certa maniera e vengono trattati in una certa maniera perché è chiaro che anche di questi 40.000 non è che però pagano 23 euro a partita sì questo ti sto dicendo dopo tutto il resto è grasso che entra dentro cioè poco da fare sì dico solo che se posso dire la mia che secondo me quello che fa adesso Virtus rispetto a quello che state proponendo voi ad oggi anche se non fa sempre sold out come farebbe e a livello scenico è più bello vedere un palazzo pieno però nel totale secondo me ci guadagno di più ma no ma li ha portati ma assolutamente quest'anno sì ma bisogna poi questi dati li devi guardare sul lungo periodo cioè nel senso che certo cioè non finisce qua se riguardi su un'annualità è impossibile è impossibile perché ti ho detto che Inter è arrivata a quella perché Inter aveva poi dieci anni che non giocava con nessuno non faceva la ciepia ma aveva lo stesso 80.000 a San Siro hai capito? ma su quello l'ho capito perché quando vendevo le case io riuscivo a vendere più i nuovi perché gli facevo e loro sono arrivati a questa politica per questa situazione qua io comunque sono pieno che io giochi col Canica T o giochi con la Juventus per loro sono pieno faccio 80.000 quindi io ne vendo 40.000 e gli altri non mi interessa perché tanto li vende lo stesso ed è sempre pieno lo stesso però è avere un prodotto da vendere tu hai un prodotto che si vende cioè questa Virtus è un prodotto che si vende questo io sto cercando di farvi spiegare è un prodotto che tu riusciresti a vendere ancora meglio ma secondo me sarà una cosa che verrà fatta che verrà fatta quando ci sarà per assurdo se fai l'abbonamento annuale all'Inter hai costi che sono più alti di quelli del Bologna ma se fai un paragone no no ma non c'è paragone se vai su Primanello su visibilità qualità ma stai scherzando va bene se siamo dilungati ne dobbiamo salutare spero che ci sia stato interessante come sempre come sempre anche perché oggi era una giornata un po' così di passaggio tra di vigilia di antipasto di quello che sarà un weekend importante comunque ci si gioca una posizione finale di regular season e magari la possibilità di fare solamente una partita di play-in perché comunque se arrivi ottavo e vinci a Belgrado ne fai una ragazzi è così comunque farne uno in arena sposta a livello societario di 600.000 euro il valore di una partita in più se arrivi ottavo anche a livello perché non c'è nell'abbonamento sono 600.000 euro comunque non c'è mai stato solo Porrelli te lo dà anche Cazzola dava i play-off allora forse è stato Madrigali il primo anno che dava anche può essere però ha detto questo di base Porrelli ti dava tutto andavi a comprare l'abbonamento tu finivi quel bel abbonamento che facevi in canale c'era anche di più del bip bip tic 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 tu avevi finito va bene va bene ci devi dire qualcosa io sono io sono a posto abbiamo ci dispiace tutti i messaggi che abbiamo anche audio di Marco eccetera ci scusate ma abbiamo voluto far chiarezza anche su molte molte ah vedi Cazzola dava i play-off sino alla semifinale sì non dava la finale comunque noi torniamo lunedì avremo tante cose qui parlare sentiremo anche gli audio che non abbiamo ascoltato lunedì sicuramente in una maniera o quell'altra saremo qui che dovremo parlare per la partita che c'è il giorno dopo le date sono due 16 e 19 quella per forza assolutamente ovviamente è di vigilia anche lunedì eh sì sulla promessa 16 e 19 sulla promessa del dottor Zanetti la volontà c'è la memoria non lo so se c'è la nostra memoria di ricordarci di rimettere gli audio del giovedì ma la volontà c'è è la memoria è la memoria è il nostro difetto ciao a tutti a lunedì ciao ciao